siamo a belforte questa è l'area sterrata utilizzata anche come parcheggio accanto al centro commerciale iper qua ieri sera alle 10 e mezza circa un grande bagliore e questo camper che è andato in fuoco completamente distrutto sono intervenuti le forze dell'ordine i vigili del fuoco hanno spento l'incendio ma ormai del camper resta come vedete lo scheletro la storia di questo camper è che era qui abbandonato da dall'estate scorsa e già oggetto di furti era stato erano stati rotti i vetri aperto appunto il camper e portato via tutto quello che c'era dentro è un mistero sulle ragioni dell'incendio ed è un mistero sul fatto che questo camper forse qua abbandonato da diversi mesi ecco qua siamo dalla parte opposta dell'area sterrata qui accanto al centro commerciale questo è un furgone che è abbandonato anche questo dall'estate scorsa è danneggiato rotti i vetri hanno già asportato praticamente tutto all'interno e qua appunto da da mesi non è di nessuno